Capri Hollywood di International Film Festival ha raggiunto il traguardo del ventunesimo anno. La consueta Kermess cinematografica si svolgerà dal 27 dicembre al 2 gennaio sull'isola di Capri e vedrà tra i premiati con il Capri Legge in the World il regista americano Taylor Hackford, l'attrice Helen Mirren e gli scenografi Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo. Chairman onorario Lina Wirtmuller. Ascoltiamo il fondatore del Capri Hollywood, Pascal Vicedomini. Si inaugura in piazzetta col Teatro San Carlo di Napoli insieme a loro Taylor Hackford e delle Mirren, una delle coppie più importanti di Hollywood che porteranno due delle tante anteprime internazionali. Capri Hollywood oggi è diventato un riferimento importante nella corsa ai grandi awards, ai Golden Globes, agli Oscar e quindi sono convinto che insieme a Raffaella faremo un grande festival di cui si parlerà comunque nel mondo. Madrina d'eccezione è la modella campana Raffaella Modugno. A parte europea quale sono non posso che essere felice di essere la madrina di questo evento. Capri, come sappiamo tutti, ormai è un classico del cinema internazionale e ciò che lo rende unico e magico, questo festival, credo che sia proprio la location, che nel cuore del suo inverno coinvolge il meglio del cinema internazionale facendole da palcoscenico. Poi sono felice anche perché affiancherò un grande professionista, nonché un carissimo amico che ha sempre creduto in me da tanti anni, Pascal Vicedomini, e avrò la possibilità di incontrare dal vivo eccellenze del mondo del cinema hollywoodiano come Helen Mirren, che comunque conta 40 anni di esperienza nel campo cinematografico, conta diversi premi, quindi sono più che felice.